E' solo un piccolo segno, il primo piccolo segno sicuramente una delle strategie di mettere insieme le persone e di cercare in qualche modo di far condividere un progetto comune. Non è solo il problema dell'integrazione tra i soggetti perché il problema dello stare insieme riguarda non solo persone di diverso colore ma probabilmente anche all'interno della stessa etnia o bianca o nera evidentemente ci possono essere problemi di socializzazione. Io sono molto felice a giocare, a giocare, a giocare con gli italiani e gli africani così che siamo tutti uguali. Non è una racista o quello che si chiamano. Per vivere meglio nel Pesco Pagano abbiamo bisogno di venire insieme come uno. Non c'è una differenza tra i soggetti o i soggetti, siamo tutti umani. Quindi credo che dovremmo lasciare tutto e venire insieme come uno. Come nasce questa idea, padre? Nasce dall'esigenza da parte di alcuni di loro di avere un momento di festa attraverso la corsa di trompallone. Cosa pensi di quello che è successo qui qualche settimana fa? Dico che è una tragedia che così si separa è umana. Quindi quando dobbiamo fare qualcosa di unire la comunità così sempre siamo felici di essere insieme. Quello che è venuto fuori dagli scontri che c'è stato? Malore, malore. Malore di una voglia di dire al mondo guardateci siamo anche noi, abbiamo bisogno di essere riconosciuti. Aiutateci, aiutateci in questo. Cosa c'è ancora da fare perché l'integrazione sia totale da parte della comunità africana qui? Un cammino che non è solo rivolto a questa terra ma un cammino nazionale. Che la Chiesa con le istituzioni varie, quindi ogni fazione interessata deve muoversi verso l'attenzione di questa accoglienza dando diritto a coloro che noi accogliamo e poi chiedendo a sua volta che coloro che accogliamo riconoscono gratitudini per essere accolti. Grazie.